ed ecco rizzini edicola come scoprire che ci manipola molti lettori mi scrivono dicendomi ho preso in mano la mia vita funzionava tutto bene poi mio marito mi ha detto tre o quattro cose spiacevoli come ho detto altre volte e tutto il mio progetto è crollato in altri casi si parla di ricatti affettivi dei figli dei partner degli amici dottore lui mi dice le cose in un modo che io non so dirgli di no nelle relazioni noi rischiamo di venire spesso manipolati e ci troviamo ad avere queste sensazioni la sensazione che certe cose non ci vengono non ci riescono perché qualcuno interferisce in modo nascosto sotterraneo ci usa e non riusciamo a dire di no e non riusciamo a sfuggire ora questo numero di rizza io e tutti gli esperti di rizza siamo soffermati molto su questo tema come si fa a non farsi manipolare si veniamo manipolati dai media dalle televisioni ma veniamo manipolati molto anche dalle relazioni come si fa beh un segreto c'è e di quello di cui parliamo in questo mese forse il segreto più importante tu credi di essere sposata un uomo lo chiami tuo marito così un uomo pensa di essere sposato una donna la chiama sua moglie è una visione esterna delle cose naturalmente sto attento a fare cose che non la disturbino e lei sta attenta a fare cose che non mi disturbino una coppia sa bene cosa dire cosa non dire se vuoi litigare con tuo marito basta che dici tre parole non so gli ricordi sua mamma la lotta con la suocera immediatamente ricomincia in casa comincia uno scontro quindi abbiamo delimitato i territori sappiamo cosa dire per litigare sappiamo cosa non dire per non litigare ma le nostre relazioni sono sole esterne o noi siamo sposati con un'energia interna mentre vedete questo blog provasso a chiudere gli occhi e immagina che ci sia un marito interiore e per un uomo ci sia una sposa interiore ogni tanto della giornata immaginare di essere vicina ad un uomo sconosciuto che ti accarezza che ti protegge e a cui ti affidi nel silenzio sapete perché veniamo manipolati così tanto perché abbiamo perso il regno della notte non sappiamo più stare in silenzio neanche per 30 secondi fuggiamo il buio come fosse un nemico in realtà una parte strutturale del nostro essere di notte quando andiamo a dormire il buio ci rigenera niente più del buio rappresenta meglio il tuo sposo il tuo sposo notturno e in quella buio notturno arrivano immagini io mi diceva che senza le immagini non possiamo vivere beh la nostra cultura sta perdendo le immagini e quindi siamo manipolati dalle immagini esterne adottore senza complimenti io non posso vivere perché mio marito non mi fa più complimenti senza di te non puoi vivere non senza i complimenti se hai bisogno dei complimenti è come essere abbagliati da una luce dove non vedi più te molta della manipolazione perché arriva perché noi ci aspettiamo dagli altri qualcosa di esteriore di finto di illusorio come i complimenti allora dobbiamo immaginare durante la giornata più spesso uno spazio silenzioso uno spazio notturno il mio compagno della notte quello che mi fa sognare quella figura che ogni tanto immagino nel buio che è lì con me mentre sono in mezzo agli altri anche mentre faccio l'amore questo essere altrove è un'energia per il cervello ogni volta che io sono altrove non sono coinvolto nelle cose sono in un'altra energia quell'energia indipendente è libera e autonoma è un'energia che fuori dal tempo lì c'è un senso perenne lì c'è la mia trama lì c'è la mia tana lì c'è l'essere unico che sono quando tu sei vicino al silenzio al buio al regno della notte alle immagini tu sei in quel regno del cervello dove c'è un'energia disidentificata quell'energia è la cura è la prima di tutte le cure bisogna cercarla tutte le volte che cerchiamo di ottenere un risultato correndo fuori di noi il risultato che otterremo sarà sempre un risultato parziale tutte le volte che ci affidiamo all'interno al silenzio a quel regno misterioso dove abita il nostro sposo lì avremo risultati che ci proiettano verso di noi dentro di noi nella nostra casa interiore c'è posto più sicuro della nostra casa interiore non credo buona lettura